Vogliamo raggiungere la verità e ridare dignità ai nostri cari. Con queste parole Francesco Mancini ha aperto la riunione svoltasi online su piattaforma Zoom allo scopo di presentare il neonato comitato dei parenti delle vittime del Covid di Molise che presiede. Amari e raccapriccianti racconti di figli, nipoti che dopo aver affidato i propri cari alle cure del Cardarelli non li hanno più visti e ora chiedono chiarezza su come siano stati curati quei pazienti. Una sofferenza la loro che si è trasformata in rabbia quando raccogliendo i telefoni dei parenti hanno letto messaggi e ascoltato dei vocali inquietanti così come lo erano le richieste d'aiuto arrivate quando le speranze erano ancora in vita. Mio padre mi diceva denunciateli ha affermato Rocco Lombardi. Come sua ultima volontà mi ha chiesto di procedere di far conoscere cosa accadeva. Lui diceva è così che si deve morire perché bisogna vedersi negare i bisogni primari come una pronta pulizia o un bicchiere d'acqua. Mancini ha riferito anche le risposte che gli venivano date. I tempi erano contingentati e quindi non c'erano abbastanza minuti da dedicare ai pazienti. Perché non c'era un infermiere fisso? Ha proseguito. L'ultimo messaggio mio padre non è riuscito nemmeno a inviarlo e poi alle 7.30 del mattino è arrivata la telefonata per annunciarci il suo decesso. L'incontro è stato moderato dall'avvocato Vincenzo Iacovino che ha già annunciato i primi passi giudiziari e di aver inoltrato la richiesta di accesso agli atti. Verranno acquisite le cartelle cliniche per arrivare a una piena trasparenza. Durissima anche la denuncia di Benedetto Lombardi che è stato ricoverato per covid. Ho chiesto per 10 minuti soccorso per un vecchietto e ci è voluta un'altra ora e mezza ha detto. Poi Nadia Perrella che ha parlato di medici all'esasperazione. Mia madre è stata a due ore e mezza davanti al pronto soccorso in ambulanza prima di essere portata in reparto ha detto e dopo cinque giorni è deceduta ho dovuto portare io acqua e salviettine non so come è morta. Racconti che danno i brividi e ora le 20 persone che hanno aderito al comitato vogliono che il loro strazio abbia una spiegazione.